La seconda corsa ad Agnano e il Premio Minou, prova riservata a femmine di due anni, sono in quindici al Via. Prima fila per Emma Ludd, Eva Degliulivi, Evita Maker, Corona Crezi, Evita Peron, Etty Jepson, Emi Dorial e Hermana Jet. Seconda fila per Elsie Prinzessi Zeta, Evita Opie, Lodin Model, Elsa Marr, Esther Petral, Emma Leon, SM e FBGF. L'errore di Corona Crezi al Via Evita Maker scavalcata da Etty Jepson. Primi duecento metri completati in quattordici e due. La Mago d'Amore di Marco De Vivo ha assunto l'iniziativa con decisione. Terza posizione per Eva Degliulivi allargo l'avanzata di Evita Peron. Primo quarto in trenta, Evita Peron si avvicina alla leader Etty Jepson. Le due seguite da Evita Maker che precede Eva Degliulivi. Poi FBGF ai lati di Emma Ludd. Seicento in quarantaquattro e otto. Il ritmo si mantiene sollecito per la categoria. Sbaglia Evita Maker, sbaglia Emma Ludd e così Etty Jepson affiancata da Evita Peron. Si avvicina Eva Degliulivi. Un minuto e sei decimi per Medaggara. Stappata e comandata adesso Evita Peron. Eva Degliulivi, Serra in seconda posizione. Poi FBGF un po' più dietro Elsa Marra. Le altre fanno fatica. Dopo il chilometro in 1.16.3 si arriva ai tre quarti di miglia in 1.32. Etty Jepson, una figlia di Etty Jepson, sta per entrare in retta d'arrivo con chiaro margine. Va in fuga la Etty. E' inseguita ancora da Evita Peron che si ripropone. Etty in chiaro vantaggio. Etty, Etty, Etty. Etty Jepson alla grande con Marco De Vigo. Valida Evita Peron al secondo, mentre Eva Degliulivi raccoglie il terzo posto. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.16.5 per questa figlia di Mago d'Amore Durla Jepson che difende i colori della Nininni, colori noti soprattutto in terra francese. Marco De Vigo in veste di allenatore ed interprete. Grazie. 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 Grazie.